Ciao a tutti ragazzi, in questa nuova guida d'acquisto parliamo di scarpe da trekking. Questa guida d'acquisto sarà un pochino diversa dalle altre, non verrà strutturata in un solo video, perché c'è da mente tanto da dire sulle scarpe da trekking che sarebbe venuto a fare un video da 2-3 ore, quindi la faremo in vari spezzettoni di video. Questa è la parte 1 e oggi iniziamo ad analizzare l'altezza della caviglia, capendo se nel nostro caso ci conviene andare più su una scarpa bassa da trail o da trekking oppure su uno scarpone col collo alto. Tenendo a mente che c'è sempre anche la via di mezzo. Per decidere quale scarpa comprare dobbiamo però analizzare 4 parametri. Il primo è quanto andiamo in montagna. Siamo principianti? Siamo persone intermedie? Siamo esperti? Questo è già molto importante perché ci dice la nostra preparazione. E legato a questo punto arriviamo al secondo, la nostra preparazione atletica, sia dal punto di vista proprio muscolare di quanto andiamo veloci, sia dal punto di vista della nostra mobilità articolare. Per capirci quanto siamo soggetti a poter prendere una storta. Il terzo punto invece è legato al carico del peso. Quanti chili ci portiamo dietro di peso dello zaino? Abbiamo uno zaino da trail da 2 chili? Uno zaino di escursione giornaliera da 5 o 6? Uno zaino d'opera alta via da 10 e oltre? Anche questo è un parametro molto importante. E per ultimo, ma forse anche il più importante, il tipo di terreno o la quota a cui andremo. Perché se stiamo parlando di una strada di fondo valle, un sentiero di media montagna o di alta montagna, anche qua per ogni sentiero c'è il suo tipo di scarpa. Quindi adesso che sappiamo i quattro punti che andrò ad analizzare per capire qual è la scarpa migliore per l'attività outdoor che vorremmo andare a fare, iniziamo subito dal primo modello di scarpe, partendo magari dalle scarpe basse. La prima scarpa di cui voglio parlare sono le scarpe da trail running. Fate molta attenzione se volete comprare questo tipo di calzatura, perché io vi consiglio quelle da ultra trail running, perché hanno di solito un maggior sostegno dal punto di vista sia laterale che del collare del piede, sia dal punto di vista dell'ammortizzazione. Iniziamo quindi ad analizzare i quattro aspetti per le scarpe da trail. Inizierei per le scarpe da trail dal punto numero due, quindi la possibilità di prendere storte. Come potete vedere queste scarpe hanno un collare veramente molto basso. Nel modello che ho qua è anche un pelino alto, ma ultimamente i produttori stanno andando ad abbassare quella che è la parte laterale di sostegno, andando ad aumentare naturalmente la possibilità di prenderci storte. Se siamo persone che sono soggette a prendere storte, ma anche normalmente nella vita quotidiana magari mettiamo male i piedi, non penso che questa sia la scarpa che faccia per voi. E allo stesso modo, anche per i principianti, non vi consiglio di partire subito da una scarpa da trail. Anche perché molte volte, sì, anche sulla parte della tomaia, sono meno resistenti e meno protettive rispetto a una scarpa superiore. Ma quali sono gli aspetti positivi delle scarpe da trail? Le scarpe da trail sono decisamente leggere. In questo caso il modello che ho in mano è forse la scarpa da trail più pesante che ho provato quest'anno, ma è comunque nettamente più leggera rispetto a una scarpa, sempre bassa, ma specifica per il trekking. E sono scarpe che ci aiutano molto ad andare veloci, nel senso se noi abbiamo una camminata molto veloce, magari ci piace anche un po' corricchiare, non dico proprio correre a fare trail running, ma un corricchiare, beh, allora queste scarpe potrebbero fare per noi. E dal punto di vista dei terreni, allora, bisogna anche qua andare un attimo allo specifico. Se siamo esperti, una scarpa da trail running potremmo usarla praticamente ovunque, tolto il ghiacciaio, ma solo se siamo esperti. Se siamo intermedi o principianti, allora io vi consiglio di utilizzare la scarpa da trail solamente su terreni di fondo valle, single track, diciamo che può andar bene un pochino ovunque, tolto, vabbè, ghiacciai naturalmente, ma anche roccia. In quel caso, sulla roccia, vi consiglio di andare su una scarpa un pochino più alta, proprio perché ci potrebbe essere il rischio di avere una slogatura. Infine parliamo del peso dello zaino per una scarpa da trail. Io personalmente, soprattutto se siamo fino all'intermedio come esperienza, non vi consiglio di utilizzare le scarpe da trail se avete uno zaino superiore ai 5 kg, ma forse anche 4. Questo perché uno zaino superiore ai 5 kg tenderebbe a sbilanciarvi, a potervi far cadere i movimenti bruschi. Normalmente le scarpe da trail, appunto, sono pensate per chi fa trail running, per chi ha dei pesi sulle spalle decisamente inferiori a quello che può portare una persona che fa trekking. Passiamo ora a parlare delle scarpe da trekking, sempre basse. Le scarpe da trekking, anche in questo caso, come per le scarpe da trail, vale il principio del quanto a possibilità abbiamo, quanto siamo allenati, quanto potrebbe capitarci una storta, perché a livello di altezza del collare, siamo lì, praticamente possono essere abbastanza paragonabili. In questo caso, però, c'è da tener conto che di solito le scarpe da trekking sono più strutturate sulla parte posteriore, quindi in sé la conchiglia posteriore, quando noi andiamo a schiacciarla, è più dura, quindi ci darà un sostegno maggiore. Per quanto riguarda l'allenamento, anche qua dipende da quanto siamo allenati. Se siamo persone molto allenate, anche una scarpa di questo genere può andare molto bene, anche su terreni particolarmente sconnessi. Mentre se siamo poco allenati, una scarpa del genere verrà consiglio su terreni molto molto semplici, paragonabili, come dicevamo prima, ai terreni per le scarpe da trail. Parlando invece del peso dello zaino per quanto riguarda le scarpe da trekking, io vi consiglio di utilizzarle se avete degli zaini non troppo pesanti, cioè diciamo 6-7 kg al massimo. Non di più, perché lo zaino potrebbe tendere a sbilanciarvi. Veniamo ora a parlare dei modelli di scarpe così detti mid. Middle, a metà, sono sinonimi. Di solito si chiamano versione mid. Cosa vuol dire? Sono molto molto simili alle scarpe da trekking, ma hanno il collare più alto. Non arrivano sopra il malleolo, di solito arrivano all'altezza del malleolo o un poco sotto, e questa inizia a presentare già una parte di sostegno sulla caviglia abbastanza importante, perché comunque ci va molto, davvero tanto, ad aiutare in caso di problemi distorte. Per quanto riguarda l'esperienza, questi scarponcini possono essere utilizzati secondo me da chiunque. Non ci sono tanti problemi né dal principiante né all'esperto. Per quanto riguarda il terreno, anche loro vanno bene un po' ovunque, tenendo conto che magari con questo possiamo iniziare ad affrontare una qualche roccetta in più. Attenzione, parlo di roccette, non andare su ghiaioni o sfasciume e roba del genere. A livello di chili di zaino che possiamo portare, sono praticamente quasi paragonabili alle scarpe da trekking, ma possiamo aggiungere un chilo, due chili, arriviamo magari attorno agli otto. Però secondo me questi sono un ottimo compromesso per chi sta iniziando, per i principianti, perché non abbiamo né una scarpa troppo alta che può dar fastidio a una persona che non è abituata, ma nemmeno una scarpa troppo bassa che potrebbe provocare qualche distorsione a causa del poco allenamento. I modelli mid, a mio parere, sono veramente fondamentali nella categoria di mercato perché sono quelli che più vi consiglio se siete dei principianti alle prime armi e volete andare a fare escursioni. Veniamo ora agli scarponi da trekking, quindi scarponi con il collo come potete vedere decisamente alto. Questi scarponi sono perfetti per chi ha problemi di caviglia, per chi ha poca muscolatura, perché qua possiamo dire che le storte ne prenderete veramente pochissime e sarà lo scarpone ad assicurarvi tutto il sostegno necessario. Con uno scarpone del genere possiamo già salire ancora di quota e arrivare magari a fare qualche ghiaione, qualche sfasciume, ma non arrivare a fare ghiacciai perché per quello adesso poi vedremo le scarpe migliori. A livello di peso di chili nello zaino qui possiamo parlare anche di trekking su più giorni, quindi magari con pesi superiori ai 10 chili per più giorni, come dicevo. A chi li consiglio a livello di esperienza? Anche questi, secondo me, vanno bene un po' per tutti. Sia dal principiante, anche se come dicevo forse è meglio un pochino il modello mid è un pochino più basso, ma intermedio, esperto. Sicuramente se non vi conoscete a livello di muscolatura, a livello di articolazioni, avete paura che potreste prendere qualche storta, allora forse è meglio il modello a collo alto rispetto al modello mid. Però qui dovete un po' conoscervi voi, io non posso dirvi come siete fatti purtroppo. E per quanto riguarda questo tipo di scarpone, troviamo comunque un sostegno dal punto di vista anche di tutta la tomaglia, dal punto di vista anche proprio della struttura decisamente maggiore rispetto sia di solito ai modelli mid che alle scarpe da trekking. Molte volte i modelli mid sono semplicemente delle scarpe da trekking un pochino più alte. Lo scarpone invece è una categoria a sé. Capita di trovare la stessa scarpa sia in versione bassa, mid che alta, ma di solito è molto più probabile trovare una scarpa da trekking in versione bassa e mid e un altro tipo di scarpa proprio con un nome diverso in versione alta. Infine veniamo a parlare degli scarponi proprio quelli da backpacking, gli scarponi anche con i quali possiamo fare del facile alpinismo che sono scarponi di solito che hanno un collo ancora più alto ad occhio magari non riuscite a vederlo ma normalmente hanno un centimetro o due di altezza in più per quanto riguarda il collare del piede sono decisamente più strutturati perché sono pensati proprio per andare anche ad alta quota su terreni davvero difficili ma anche fuori dei sentieri quindi dove potremo trovare di tutto e di più. Sono scarponi questi qua che io però vado a consigliare a persone esperte non tanto per l'altezza del collo quanto che questo tipo di scarpone per farci dei trekking o del facile alpinismo di solito hanno la suola rigida cosa vuol dire questo lo vedremo nel prossimo video ma vi anticipo che avere una suola rigida tende a stancare molto di più non è una cosa molto naturale e quindi vado da sconsigliare sicuramente ai principianti ma anche a delle persone intermedie se non sono mai passate da delle suole semi rigide infine per quanto riguarda il peso dello zaino beh con uno scarpone così visto tutta la sicurezza che ci può dare qui possiamo andare quanti vogliamo di chili possiamo arrivare anche a 20 e oltre senza farci tanti problemi proprio perché sarà lo scarpone ad aiutarci ad avere il sostegno necessario veniamo quindi a capire per chi inizia per un principiante quale scarpa è la migliore allora vado a togliere quelle che secondo me proprio non vi consiglio di acquistare le scarpe da trail running perché non avrete probabilmente la muscolatura e le articolazioni a migliori per poterle utilizzare e anche le scarponi quelli da alpinismo facili alpinismo o trekking proprio come vi dicevo per la colpa della suola che essendo rigida è abbastanza difficile da portare ci rimangono quindi quelle prettamente pensate per il trekking su quale puntare allora se siete proprio alle prime armi come vi dicevo vi consiglio la versione mid perché è un buon compromesso tra i tre naturalmente dipende quello che dovete fare se dovete stare a bassa quota con degli zaini abbastanza leggeri scarpa da trekking può andare comunque bene se non vi filate la scarpa di trekking dal punto di vista del collarino andate sulla versione mid perché è il collarino un pochino più alto e come vi dicevo con questo collarino un pochino più alto possiamo alzarci anche un pochino di quota arrivando a fare qualche sentire un pochino più complicato se invece vogliamo partire subito a bomba quindi iniziare con sentieri d'alta montagna sentieri in quota con anche carichi abbastanza pesanti attorno ai 10 kg o se abbiamo problemi di caviglie deboli allora sicuramente la scarpa più alta con il collare più alto perciò ragazzi la prima parte di questa guida d'acquisto finisce qua nel successivo episodio andremo a vedere i diversi tipi di suola quindi dalle suole più morbide alle semirigide fino ad arrivare alle rigide ma per adesso io vi ringrazio per aver guardato questo video e nella speranza sia stato esaurente e esaustivo ci vediamo al prossimo ciao ciao